Io credo che uno Stato non deve mai e poi mai avere paura di ricercare la verità. Sulla mia pelle è il titolo del film che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, il giovane morto mentre era affidato allo Stato, agli uomini delle forze dell'ordine chiamate a garantire la sicurezza di tutti. Una storia difficile da portare dentro i palazzi del potere. Alla Camera l'impresa è riuscita perché l'ha fortemente voluto il presidente Roberto Fico. La verità non fa male a nessuno, ancora meno ai carabinieri, alla polizia, alle forze armate e alla stragrande maggioranza di persone che tutti i giorni faticano per servire lo Stato. Ma è proprio a loro che la denuncia della verità, senza sconti e senza coperture, è un atto dovuto. La vicenda continua però a toccare un erbo scoperto. Pochissimi i parlamentari presenti nell'aula dei gruppi della Camera dove è stato proiettato il film, perché per molti il problema rimane la pubblicità del caso. E proprio questo è il punto. La verità può far male? Fico ha risposto con chiarezza. Altri la pensano diversamente.